La salvezza è spirituale, la salvezza fisica conta fino ad un certo punto, cioè quello che conta è la salvezza spirituale, perché noi siamo lo spirito, il corpo sì, il corpo tra un po' io quanto vuoi campare? 90, 150 anni? Non lo so quanto vuoi campare, ma comunque alla fine lo devi lasciare questo corpo, tu sei sempre tu. Poi nel momento in cui raggiungi un livello evolutivo superiore, inizi a ricordare le vite precedenti, come questi esseri ricordano tutte le loro incarnazioni, quindi non c'è più né la paura della morte, perché non c'è più l'oblio, non c'è più la dimenticanza, non si beve più alle sacre fonti del fiume lete che portavano alla dimenticanza. Si vive e si continua a vivere sempre, si vive, si vive dentro il corpo fuori dal corpo, dentro il corpo fuori dal corpo, dentro il corpo fuori dal corpo, sempre sono due tipi di esperienze differenti. L'esperienza fuori dal corpo è più contemplativa, l'esperienza nel corpo è più attiva, quindi si elabora maggiormente a livello soprattutto di sensorialità e di emotività. L'emotività pura è nell'astrale, quindi nell'ambito spirituale uno vive le emozioni pure, l'emotività pura, ma comunque l'emotività è presente anche nel corpo. Adesso che siamo incarnati è soggetta ad altri dinamismi, ma la sperimentazione diciamo così che produce un'evoluzione più rapida è quella nel corpo, perché è più intensa, è più intensa. Lo spirito nel corpo vive una sorta di prigionia, lo spirito nel corpo vive una sorta di prigionia, quindi questo lo porta ad elaborare maggiormente.